Parmalat da sempre sulle tavole delle famiglie italiane, Sanremo da sempre nelle case italiane. La presenza di Parmalat a questo festival, come si manifesta, come siete presenti qui? Abbiamo aspettato anche noi, come milioni di italiani, questo momento, perché Sanremo è un'occasione importantissima e l'abbiamo scelta per lanciare il nostro nuovo latte, Parmalat Colazione Plus. Le caratteristiche della colazione? La colazione è molto importante, è molto importante farla e farla bene. Farla perché riduce il senso di fame, riduce quindi aiuta a mantenere il peso corporeo, aiuta a prevenire rischi cardiovascolari e perché? Perché ci fa iniziare bene la giornata, con anche la giusta carica e il giusto livello di allegria. Che tipo di peculiarità ha la colazione Plus, che è questo nuovo prodotto che presentate proprio qua a Sanremo? Sì, latte, latte Parmalat Colazione Plus, accompagna ed è il latte esclusivo di Casa Sanremo. Infatti abbiamo scelto questo momento per farlo assaggiare da tutti, da ospiti, da giornalisti, dagli artisti. Perché? Perché è un latte che rende la colazione ancora più completa, perché è fatto da un semplice processo di ultrafiltrazione che aiuta ad avere più proteine e più calcio. Infatti il latte Parmalat Colazione Plus ha il 50% in più di proteine e il 30% in più di calcio per rendere la nostra colazione ancora più completa. Una colazione Plus per l'appunto. Ma non manca qualcosa? Manca questo! Nuovo latte Parmalat Colazione Plus, per una colazione buona e completa, con 50% di proteine e il 30% di calcio in più. Latte Parmalat Colazione Plus, la colazione è Plus completa. Latte Parmalat Colazione Plus, la colazione è Plus completa.